Nessuno dei 12 candidati favaresi in corsa per i sette posti all'Ars pare essere riuscito a raggiungere l'obiettivo, complice sicuramente l'elevato numero di aspiranti onorevoli, oltre alla scarsa affluenza alle urne. Neanche il deputato uscente, l'onorevole Nino Bosco, è riuscito a restare seduto quindi al suo posto. Davvero un peccato. Le potenzialità della città avrebbero quantomeno permesso l'elezione sicura di uno se non due deputati regionali, ma la troppa varietà di opzioni per i votanti favaresi ha, com'era facile intuire, disperso i voti. E poi, se volessimo usare del campanilismo, c'è da fare conti con l'elevato numero di voti che i candidati di altre città riescono, come sempre, a sottrarre a quelli favaresi. Vediamo i voti che i 12 candidati favaresi hanno riportato in totale nelle 35 sezioni di Favara. Bosconino, lista numero 6, PDL, 1.257 voti. Messinese e Angelo, lista numero 7, Crocetta, Presidente, 1.240. Di Caro Giovanni, lista numero 9, Movimento 5 Stelle, 955 voti. Segue Puma Salvatore, lista numero 10, Udc, 914 voti. Poi Schembri Emanuele, lista numero 8, FDS, Sel, Verdi, con 577 voti. Poi c'è Arnone Giuseppe, lista numero 2, Musumeci, Presidente, 548 voti. Iacolino Salvatore, lista numero 6, PDL, 432 voti. Segue quindi Russello Domenico, lista numero 3, Sturzo, Presidente, 251 voti. Presti Giovanni, lista numero 5, Rivoluzione Siciliana, 61 voti. Crapanzano Giuseppa, lista numero 4, PD, 11 voti. La Russa Giacomo, lista numero 17, I Forconi, a 5 voti. E quindi Urso Annalisa, lista numero 6, PDL, con 0 voti. La Russa Giacomo, lista numero 6, PDL, con 0 voti.